Grazie a tutti Un trampo! Un trampo! En 2, vamo, funcione le caraviglia! Yeah! Libi! Libio! Dale, dale pa' atrás! Viguito! Ok, ok! E' tan bonito! Va a 2, vamo, va! Tiene 2, vamo, vamo! Tiene 2, vamo, vamo! Era 10! En 2 y en 3, pero en 4 ya te pasa de 4, ya! T'es mojante! Ok! Ya esta Diego y nos lo quedamos el motor! Me quedamos el motor, eh! Ahí ya esta! Tengo su chavito! 2, vamo! 5, 4, vamo! 2, vamo! Como va, Libio? Cómo va? 3! 4! 3 tambien va buen, pero cuando mete mas gente, se supe mas, es que es muy espejo, entiendo! Scusate, non ti dà che c'è un gasolino. Quien ha tirato questo? Sparo. Se fiarà il sott'acqua? Scari, non si fiarò il sott'acqua, non si fiarò il sott'acqua. Guardate quittà il sott'acqua, questo ne dà che fiarà l'acqua il sott'acqua Ci sono e che fiarà l'acqua. Ci sono per�데 quella e quella ericenda? Grazie a tutti.